Erano stati derubati proprio mentre stavano visitando Cortona, nelle mire dei ladri, una coppia di turisti brasiliani, un furto che fortunatamente si è concluso in tempi record con un lieto fine. I due avevano parcheggiato in zona Santo Spirito quando, tornando all'auto, si sono accorti di essere stati derubati. La coppia ha così avvertito immediatamente i carabinieri, denunciando il furto e l'urgenza di ritrovare le valigie rubate con all'interno effetti personali dal valore affettivo, beni di valore, ma anche i loro documenti. Entrambi sono dipendenti pubblici in Brasile, nei bagagli avevano i propri tesserini di riconoscimento dei rispettivi uffici. Sono così scattate le ricerche. I carabinieri nella serpaia, vicino al ciglio della strada, hanno trovato poco dopo le valigie rubate, presumibilmente abbandonate dai malviventi che si sono sentiti braccati. Dentro c'erano tutti gli oggetti dei turisti, compresi i documenti personali. I militari hanno quindi avvertito la coppia e restituito loro le valigie. Sono ancora in corso le indagini per individuare gli autori del furto.